47, qui Diana. Il tuo incarico è eliminare il tenente Youssef Hussein, ufficiale comandante di una base sotterranea. Guarda il filmato per riconoscerlo. Inoltre dovrai impossessarti della merce che il Khan ha cercato di nascondere laggiù e portarla in superficie, dove verrà prelevata da un elicottero. La base pullula di soldati e le guardie di pattuglia sono sempre in massima allerta. Se si accorgeranno di te, reagiranno con prontezza e decisione. La segretezza e la sorpresa sono importanti, 47. Riassumendo, raggiungi la base, elimina il tenente e fai in modo che la merce arrivi in superficie. Grazie a tutti. 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 Oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.